Parcheggi meno cari ma più controlli agli evasori. È il principio con il quale l'amministrazione comunale di Pescia ha riorganizzato la gestione dei parcheggi a pagamento nella città. Con una delibera di giunta dello scorso 26 maggio, il Comune ha infatti modificato le condizioni e le tariffe della sosta a pagamento nel centro storico, fissate dalla precedente amministrazione con la Nivi Credit SRL di Firenze. In Piazza Mazzini il costo orario passa da 1,20 euro che diventavano 1,50 dalla seconda ora a 80 centesimi per ogni euro frazione. La novità di non poco conto è l'introduzione della sosta di cortesia, una sosta gratuita per i primi 15 minuti valida per tutti gli stagli a pagamento. La delibera fissa anche l'esenzione del pagamento ai possessori del contrassegno di invalidità. Sta parlando logicamente di tutti i parcheggi che attualmente erano già a pagamenti quindi nessun parcheggio nuovo verrà messo a pagamento ma verrà migliorato e razionalizzato quello esistente. Una parte importante di questi stagli sono nella zona dell'ospedale. L'accordo con la Pepar è definito qualcosa per un'eventuale riduzione? Noi abbiamo due percorsi in atti con la Pepar. Uno è quel famoso protocollo per rivedere un attimino il progetto complessivo e il Comune dovrebbe riprendere il parcheggio davanti al vecchio mercato. Dall'altra con la Pepar devo dire stiamo lavorando in maniera forte perché vorremmo arrivare a breve a un accordo fra Comune e Pepa perché la Pepar abbassi in maniera graduale i prezzi del biglietto e soprattutto favorisca il parcheggio nei momenti delle iniziative e di tutte le iniziative che ci sono e soprattutto vorremmo lavorare perché il sabato mattina che c'è il mercato a pesce ci possa essere in quell'occasione una riduzione dei biglietti. È auspicabile questo in quali tempi? No allora per l'abbassamento per cominciare a abbassare le tariffe io spero entro giugno di portare un primo risultato e poi fare in modo che nei prossimi sei mesi si possa stabilizzare un abbassamento che possa far sì che per la fruibilità dell'ospedale per andare appunto a visitare i malati all'ospedale soprattutto per la fruibilità della città i prezzi di quel parcheggio possono essere paragonati altri prezzi di altri parcheggi voglio dire che che sono in tutta la regione Toscana. Nuova tecnologia anche per la rilevazione delle infrazioni grazie a delle piastre elettroniche inserite nel terreno in corrispondenza degli stalli sono oltre 250 quelli che lo prevedono nel centro della città sarà segnalata l'auto che non ottempera il pagamento immediatamente sanzionata tramite un'apposita app all'utente a cui sta per scadere il tempo massimo di sosta del parcheggio arriverà una segnalazione direttamente sullo smartphone tramite lo stesso terminale se lo si terrà necessario si potranno così aggiungere ulteriori minuti. Noi abbiamo per la prima volta preso tre vigili a tempo determinato dal primo giugno che entrano in comune quelli verranno addibiti esclusivamente a girare a piedi la città quindi ci sarà un nuovo vigile della città che sarà vicino ai cittadini che ascolterà i cittadini che darà indicazione e controllerà e vigilerà.